Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo negli Hive MC ma non siamo qua per fare dei lab Siamo qui per provare gli Skywars come appunto avete letto dal titolo E ragazzi io ho fatto prima di appunto registrare due partite di prova E sono andate male ve lo dico subito Ho fatto tanto una kill perchè sono molto difficili le Skywars qui Ma ragazzi sono una cosa spettacolare Io voglio portarvi questo video qui Non tanto per farvi vedere tipo che ne so quanto sono scarso Perchè fidatevi su questo video perchè sono scarso O chissà quale motivo o robe varie Ragazzi sono una figata Chi ha Minecraft Premium dovrebbe venire qui secondo me almeno una volta A provare queste Skywars perchè veramente gianzissime Io mi sono divorito in queste due partite anche se ripeto l'ho perse Però devo dire che soltanto andare lì nell'isola Prima che cominci addirittura la partita E scavare i materiali ragazzi si sto parlando di scavare i materiali E' una figata Allora nella nostra mappa troveremo questi materiali qui Ok? Ci sarà uno Skywars normale con appunto In un altro ci saranno questi blocchi qui Il blocco di Doro quando verrà spaccato Ci tropperà Blocchi random tra cui Appunto non blocchi Cioè Armi o armature random Quello in ferro ci darà a noi delle risorse Che potrebbero essere diamanti Stick In genere Potrebbe essere carbone Ho visto Cioè Dropa del ferro Anche cose così Questo qua Che sarebbe i lapislazzoli Ci dà delle Random potion effect Ovvero ci dà Ho visto un altro dei quari extra Regenerazione Robbe varie Cose così insomma Il blocco in diamante Quando scavate invece Ci dà delle cose in diamante Pezzi di armature in diamante Ma potrebbero essere delle armi Ci può dare un'arma in diamante Un corpetto in diamante Delle scarpettine in diamante Cose così E questo coso qui invece Che sarebbe la redstone Semplicemente ci dà la vita Ragazzi Voi state facendo il pvp Vi siete appena scannati Contro di uno E vi mancano cinque cuori Prendete il piccone E spaccate un po' di Di redstone Cosa succede? Non so di quanto si recupera la vita Non l'ho mai provato Però Evidentemente si recupera E questo qua invece Ci dà gli xp or Ci danno Uno o due livelli di esperienza Ehm Per ovviamente incantare ragazzi Bisogna usare I lapislazoli Che non si prende Usando Scavando i lapislazoli Ma si prende Mi sembra Scavando il ferro Che ci appunto ci dà Delle risorse Tra cui anche i lapislazoli Oppure si prendono I blocchi di lapislazoli Direttamente E in teoria Mettendoli nel crafting Ci danno direttamente I pezzettini Ma non ne sono sicurissimo Scusatemi ragazzi Per questo intro lunghissima Ma se no veramente Non capivate nulla del gioco E giocarlo un po' in modo random Non è molto bello Anche se perderemo lo stesso Ok ragazzi Prima partita È appena cominciata E come potete vedere Sponiamo con l'inventario Totalmente vuoto Qua non c'abbiamo nulla Abbiamo Questi attrezzi qui Base proprio Che fanno abbastanza schifo Il piccolo ci servirà molto E delle ceste Allora Le ceste si comincia subito bene Ragazzi intanto io vorrei scaricare Subito questa roba qui Che è inutile Si comincia subito con una pozione Che è abbastanza buona Come potete vedere Nella ceste ci sta tanto la roba Per scavare robe simili Questi qui vi ricordo Che ci davano materiali random Il ferro ragazzi Vi ricordo Ci dà materiali random E effettivamente Ora guardiamo un pochettino Cosa troviamo ora Non vorrei Ok sta Ah non è ancora cominciata Tipo era di preparazione Forse il bordo se ne va via Quando scade questo tempo Controlliamo Effettivamente non lo so Vediamo cosa ci ha dato comunque Ci ha dato sia effettivamente Di materiali Gli stick Un po' di string E robe varie Nulla di spettacolare Capiamoci Ora Vorrei prendere qua il diamante Che il diamante ci dovrebbe dare Qualcosa appunto in diamante Vediamo cosa ci dà Un cappellino Non male Loro ci dovrebbe dare O armi O armature In non so cosa Dire il vero Non me lo ricordo E invece cosa ci ha dato Ah no ci ha dato in effetti Un'armatura abbastanza buona E un'altra pozione Che non so perché ci ha dato La pozione Magari l'abbiamo presa prima E manco ce ne siamo resi conto Controlliamo comunque ragazzi Vedete una figata È tipo come giocare A Lucky Wars Perché nei Lucky Wars Alla fine però Si trovano cose random Invece qui non è random È tutto già predisposto Perché voi spaccate un blocco E sapete già più o meno Cosa vi aspetta Ed è una figata Perché effettivamente Si parla sempre di Sky Wars Non è un più Lucky Wars Oh mio dio Questo non era previsto Questo non lo sapevo ragazzi Questo non lo sapevo Non so nemmeno Cosa ho spaccato Per trovarlo Ci farò caso Guardando il video ragazzi Perché non pensavo Ci fossero cose sfortunate Ok Questa è stata Una brutta sorpresa Devo ammettere Comunque controlliamo Un'accetta che fa Quanto la spada Vabbè manteniamoci la spada Prendiamo gli stick Questo si lascia qui Vediamo qua Ok cibo L'acqua non la pio nemmeno Perché non mi serve Si ho visto che ci sono I piedini in pelle ragazzi E comunque sono meglio di niente Ma non c'ho voglia di mettermi Perché tanto È inutile ragazzi I piedini in pelle Quanto mi danno di protezione Mezzo mezzo cuore in più Cuore vabbè Mezzo di protezione in più Non mi interessa Sinceramente sti cazzi Comunque Vediamo questo qui Questo qui ci ha dato Il lapis lazuli Ok Potremmo incantare qualcosa ragazzi Però io di certo La crafting table Non me la faccio La crafting table Buona la cosa L'enchant in table Non me la faccio Perché tipo Mi manca l'ossidiana E quindi è un po' un problema Per chi se lo fosse riscolato Ragazzi Non piglio questo blocco Perché mi dà la vita E siccome sono full vita Non penso ci sia bisogno Di prenderlo Vediamo Io vedo sta in effetti Venire da sopra ragazzi Non vorrei che ci fosse qualcuno Soprattutto Torniamo se c'è lo shop Ah Le zini Non c'è Non c'è Quindi ragazzi Ovviamente senza shop Metano perde Ed è triste No è la verità però Che io ragazzi Non vinco Soltanto grazie allo shop Ma devo dire che Su questo server qui Ho avuto difficoltà a giocare Non per la mancanza di shop Ma perché Veramente è difficile Perché Mi trovo davanti La gente totalmente Full diamond E io Spesso Non c'ho niente Tipo ora c'ho già qualcosa Ora mi è andata già abbastanza bene In confronto alle altre partite Ragazzi perché comunque Abbiamo un minimo di armatura Ma che sono capitate Tipo una partita su due Mi era capitata Che ero con L'armatura in pelle E anche se avevo fatto Il lezzino contro uno Perché praticamente Abbiamo approfittato Che aveva appena fatto uno scontro Lui era full diamond E tipo ho girato Di scatto Come se avesse la killaura E forse aveva veramente La killaura Non lo so E mi ha spaccato il culo Tantissimo ragazzi Tutto Totalmente full diamond Spada Aveva tutto L'armatura completa Quindi Devo dire che è abbastanza Complicata come cosa Ora questo qui Speriamo di almeno un corpetto Un qualcosa Un piccone Perché mi è dato un piccone Io non lo volevo Non lo volevo Ragazzi Un blocco di diamante Vi prego No no Ormai non li troverò più ragazzi Ormai non più Almeno un qualcosina di utile Niente Ovviamente niente Vabbè C'è della flinte Potrei farci delle frecce Purtroppo c'è già uno Che è andato al centro ragazzi Io le stringhe ce le ho Potrei fare Mi faccio un arco ragazzi Prima che sia troppo tardi Perché Ho soltanto 6 frecce Ma mi potrebbe servire Comunque ragazzi Ho usato anche una cosa Nella partita precedente Praticamente Intanto gli stick Li sto facendo Ma in verità ce la voglio già C'è una My stay mystery chest Non so come si pronuncia Penso mystery chest Che sta al centro E si apre dopo 120 secondi Mi sembra 2 minuti 3 minuti Non so quanti secondi So che 120 secondi ragazzi Sono 2 minuti Ma non so effettivamente Dopo quanti secondi si apra E effettivamente Dopo 8 tempo Si apre questa chest Qui Quando si apre Questa chest Non so cosa ci sia dentro Non ci sono mai Stato al centro Sono morto Poco prima che Si aprisse questa chest Quindi Non so cosa ci possa essere dentro Una cosa brutta del severe Ma brutta brutta Non è E che c'è il danno La caluta ragazzi Quindi bisogna stare Un pochettino attenti Ve lo dico Infatti se volete giocarci State attenti Comunque Qua c'è un blocco di diamante Ragazzi A noi le robe in diamante Non ci fanno schifo Quindi la prendiamo Magari ci esce il corpetto Una bella sega Ci esce il peccone Ragazzi La roba più inutile al mondo Comunque Allora ricordo Che abbiamo le pozioni di veleno Quindi possiamo giocarcela Forse abbastanza bene Non ne sono sicurissimo Qua c'è un lezzino Proviamo a tirare Una pozione addosso Vediamo se ci riusciamo Olè Facciamoci Una torrettina Così intanto si prende Un po' di danno E shiftiamoci Così almeno Non si accorge di noi C'è un problema Se noi ci buttiamo Di sotto Lui tipo Si accorge che Cioè lo sa Ci prendiamo anche Il danno da caluta Altra e tutto Quindi non è che sia Proprio il massimo Quindi ora noi Cerchiamo un pochettino Di fare i lezzini Con l'arco I lezzini con l'arco Ragazzi facciamo E poi ci andiamo diretti così Di spada Che ce la possiamo fare Non è vero Oh si Invece si ce l'abbiamo fatta Oh ragazzi La meglio Sarebbe intanto Di trovare Un blocco di Redzone Vediamo Sbam Non funziona Sbam di nuovo Ha funzionato ragazzi Incredibile Incredibile E andiamo a prendere La roba che aveva Questo tipo qui Che sembrava anche Abbastanza buona Dai Allora Nulla di interessante Questo non mi interessa Non mi interessa Non lo voglio buttare Per terra Questo non mi interessa Non lo voglio Questo è meglio di niente Che poi in effetti Anche tutto Era meglio di niente A dire vero Però vabbè Ok allora mettiamoci Intanto mangiamo Vediamo se è rimasto qualcosa di buono Mele dorate Incredibile Non pensavo ci fossero sul server Tipo si Ciò vi fa capire Quanto abbia giocato Ragazzi Cioè insomma Capiamoci via Allora Ok mele dorate Le mettiamo tipo qua Ragazzi sono al bordo Sono al bordo Non ci devo stare È vero C'erano anche 5 diamantini Eh no In verità i diamanti Ce l'ho io nell'inventario Cosa dico che ci sono qui Vediamo se c'è qualcos'altro Questa roba che ho buttato via Quindi non mi serve Ok allora Ripetiamo tutto ragazzi Abbiamo L'armatura Che è molto buona Però non siamo in full E Continuo a trovare cose Già doppioni Perché 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 non mi va mai bene Intanto abbiamo fatto una kill Quindi ragazzi Ve lo devo dire È già una partita buona Ah si riapre tra 40 secondi La chest segreta ragazzi Così possiamo vedere in diretta Cosa c'è nella chest Incredibile È una sorpresa pure per me ragazzi Vi ripeto Perché io non so minimamente Quanto Cosa ci sia dentro Allora un tanto uno laggiù Lo vedo ragazzi Con un pochettino di diamante Un altro laggiù E l'altro non so dove sia Perché vedo che siamo in 4 vivi Comunque allora 20 secondi Aspettiamo un pochettino ragazzi Intanto mi voglio sistemare l'inventario Perché Mi voglio anche fare una crafting table Perché effettivamente abbiamo Un po' di pezzettini di Eh come dire Diamante E quindi magari ci possiamo fare qualcosa Allora io qui mi faccio una mini struttura Ragazzi Questi skybers qui durano Durano tipo troppo Non posso piazzare i blocchi qua accanto Perfetto Sarebbe da 2 secondi Vediamo cosa ci sarà dentro Bah Non sembra roba buona Da dire il vero Non sembra nemmeno vagamente buona Ma magari ci ho avuto sfortuna io E tipo dopo c'è roba buona Non lo so Magari Sì magari sfortuna ragazzi Non lo so Perché probabilmente si trovino anche le cose buonissime Qua dentro Non ho la minima idea Comunque allora Sì Volevo piazzare la crafting table Capiamoci ragazzi Non mi offendete Ho buonato via una pozione utilissima Ma non mi sono avvenenato più di tanto Quindi magari l'hanno rallentato Tipo il coso del veleno qua Su questo server qui Comunque allora Volevo farmi la crafting table Per fare Il corpetto effettivamente non posso Quindi l'unica cosa che mi viene di fare Ragazzi E scavare Scavare e controllare se c'è rimasto qualcosa di buono qua Intanto perché sto usando questo qui con efficiency Se poi c'ho il piccone in diamante Non lo so che dovrebbe scavare più velocemente Dovrebbe Sottolineo Non lo so No si si scava più velocemente Alla cappellino che non ci serve L'accetta che non ci serve E' incredibile come troviamo sempre cose che non ci servono L'enchant in table Che questa ci serve Utilissima Sharp nessuno Ottimo No Ah ok No non vedevo il danno buggato E tipo ho detto Ma che cazzo Così E quanti livelli abbiamo Ancora 5 livelli Ragazzi Rischioso Molto rischioso Ma fattibile Ancora fattibile No aspettate Aspettate Non facciamo puttanate ragazzi Non facciamo puttanate Che io ho un piano in mente Allora In teoria I I materiali buoni Ci doveva dare Tipo il ferro Ci doveva dare il ferro stesso Se non sbaglio Quindi proviamo a scavarlo Non si può scavare qua Forse è troppo vicino alla crafting Non si può scavare nemmeno questo Cos'è che posso scavare Dio mio Ok Ok siamo salvi Almeno siamo salvi Almeno questo dai Buono Diciamo buono In generali Per non tirare i bestemmioni Comunque Vorrei controllare effettivamente Se si trova qualcos'altro di interessante qua Ok Questo magari Non è molto interessante Ma perché non si spacca Forse siamo veramente troppo vicini A qualcosa Ah perché sopra c'è la cesta misteriosa E allora se c'è la cesta misteriosa Probabilmente Non si possono spaccare i blocchi Dove c'è la cestina lì E vabbè Intanto abbiamo visto Ci ha aggiunto Della vita per 29 secondi Perfetto Io vorrei un blocco di diamante Oh sì un blocco di diamante Un pezzettino di ferro No vabbè di nuovo Ma che cavolo è Che sfiga è Dai Ma vai via Allontanati Schifoso Ok Allora ripeto Perché così Almeno ci possiamo fare L'armatura in ferro Che non sarebbe male Comunque Uh il scarpettino in diamante Perfetto Ragazzi siamo quasi full diamond Ok Con questo qui Siamo a quanti diamanti A sei Vabbè a questo punto Facciamoci un diamante Manca poco Facciamo prima Non lo so Ma dai Un pezzettino di ferro Non è difficile Dai Non me l'ha dato Madonna ragazzi Se ci sbrocco Se ci sbrocco Ma no Magari sto sbagliando io I materiali ce li dava il ferro Sì E allora perché non ce li dà E lezzo E lezzo veramente Dai Almeno qua No un altro diamante Vabbè ragazzi A questo punto veramente Io ho il corpetto direttamente Tutti i diamanti A questo punto Guardate C'ho una fortuna sfigata Perché una fortuna sfigata Sì perché Non si può parlare di sfiga Perché comunque sono l'unico al centro C'ho un bordello di materiali qui Quindi effettivamente di sfortuna Non posso parlare Ma sto trovando un casino di volte Roba che non mi serve Magari fatta apposta Non lo so Fatta apposta per far sclerare Potrebbe anche essere Guardate Ragazzi I diamanti dovrebbero essere più rari del ferro Mi manca Ah l'ho trovato uno di ferro Ehm Sì Sì Tipo non me ne sono nemmeno reso conto Probabilmente me l'ha dato in un momento Boh Ma a questo punto ragazzi Direi quasi quasi di trovarlo direttamente L'ultimo diamante Stato a vedere come non trovo Più i diamanti in tutta la mia vita E Abbastanza triste come cosa Comunque Ok No ho visto tipo un bug Non pensavo di cadere nel vuoto Ok niente Comunque effettivamente Non sto più trovando nemmeno un blocco Ora che l'ho detto Che mi serviva quello di diamante Perfetto Si è riaperta la cesta In misteriosa o sbaglio Dio mio c'era uno qua Ragazzi c'era uno qua Stiamo calmi Manteniamo la calma Manteniamo la calma No ragazzi Non ce la faremo mai Invece ce l'abbiamo fatta Incredibile Ragazzi Non riesco a credere Come stia andando bene Questa partita qui E comunque Nonostante questo Siamo riusciti a prendere L'armatura Senza nemmeno doverla craftare Quindi Ciò fa capire Quanto è stato inutile Tutto il lavoro Che abbiamo fatto fino ad ora E la cosa Vedete Cosa intendo con sfiga ragazzi Che c'è andata bene Però è triste Come sono andate le cose È veramente triste Perché noi siamo stati qui Tre ore a perdere tempo A cercare le cose E invece È finita tipo così È triste ripeto Comunque non riesco a trovare Il coso in diamante Che mi Enderpearl Ok Ok Non sono emozionato ragazzi In questo momento No Assolutamente no Comunque Allora Mettiamo un pochettino Di robe interessanti qui Vabbè Si potrebbe fare Unbreaking Non mi interessa No Mettiamoci in protezione 1 Se possiamo No Vabbè Non posso Non posso ragazzi Vabbè Ci accontentiamo Di questo qua Che fa abbastanza schifo Però Che significa Almeno siamo full diamond Comunque Enderpearl ragazzi E ne manca quanto Uno soltanto vivo Quindi noi ci possiamo Tippare Abbiamo il veleno E possiamo fare Le zini Però è strano Vedete ragazzi Che certa gente Non abbia preso nulla C'è dalle ceste C'è ancora la roba Qui ci sono ancora tutti i materiali La cosa Un pochettino Ho visto il nome ragazzi Ho visto il nome Sta al centro Se non sbaglio Ma non ne sono sicuro Magari è uno di quelle Iscritte Ok no Sta al centro Sta al centro L'abbiamo visto tutti ragazzi È lì Ed è messo benissimo Oltretutto ho visto Che mi sta levando Un pochettino i blocchi Da sotto Quindi effettivamente Non so quanto mi convenga Lui probabilmente Ok Ha pure l'arco Cavolo E sta spammando frecce Sta spammando frecce Non so quanto mi convenga Tipare Ragazzi Questa partita qui Potrebbe essere ribaltata Da un momento all'altro E lui riesce a beccarmi Però abbiamo anche le mele dorate Quindi va bene Allora Lui sta spammando frecce Non so quante ne abbiamo Ma se ne ha quante metti Poco ne ho due stack Siamo messi male Allora Effettivamente Ho l'ender pearl però Tirandole in modo tattico Facendo un pochettino Torretta Ma non troppo Perché effettivamente Poi va a mio svantaggio Ok ragazzi Dai 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 Proviamoci 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 Siamo messi bene Siamo messi meglio Siamo messi meglio Forse ce la possiamo fare ragazzi Forse ce la possiamo fare Pozione tattica Pozione tattica Ok l'abbiamo venenato un pochettino L'abbiamo venenato Perfetto ragazzi Ci ha venenato anche lui No 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 Dai ce la possiamo fare Ragazzi Io ci credo L'abbiamo vinto Incredibile ragazzi La prima partita che registro La vinciamo È incredibile È incredibile veramente Ne ho fatto due di prova Andate male Ovviamente non registrate E la prima che la registro Si vince Incredibile veramente Allora ragazzi Sarò sincerissimo Questa partita È tipo durata 19 minuti Una Sola Partita 19 minuti Quindi io non so Effettivamente Non so quanto Vedrete del video Ragazzi È durato poco Non so veramente Come riuscirò a ritarlo E cose simili Come effettivamente Scusatemi se Sono dando una partita Ragazzi però Sono degli Skywars Come avete potuto vedere Abbastanza Complicate Diverse La gente La gente Non è molto Scarsa Anzi è abbastanza Forte Ora effettivamente Noi quelli che avete visto L'abbiamo un po' Che tenorati Tranne il secondo Che tipo ci sarà Per fare un culo Della madonna Quello che abbiamo incontrato Quindi Ce l'avevo anche un po' Di fortuna Comunque ragazzi Ditemi se volete Altri video su questo server Perché io mi sono divertito molto Le prime volte Non penso Di riuscire a vincere Ma magari Potremmo provarci Non si sa mai Comunque ditemi Se volete altri video Su questo server qui Fatemelo sapere con un commento Spero che il video Vi sia baciuto Ed ciao a tutti